Un saluto amici, Guido Bagatta con voi, benvenuti e bentornati da queste parti per l'ultima puntata della settimana. Oggi parliamo di motori, infatti è iniziato da poco un weekend importantissimo per il mondo delle ruote scoperte, non solo perché c'è il Gran Premio di Monaco, ma anche e forse soprattutto, se vogliamo, perché in contemporanea, come ormai accade da parecchi anni, c'è la 500 miglia di Indianapolis, che com'è o come non è, è la gara di motori più famosa al mondo. Nel gruppetto ci sono Le Mans per la 24 ore, c'è il Gran Premio di Monaco e anche quello di Monza, però Indianapolis in un modo o nell'altro ha un allure diversa. Anche in Europa, anche se io credo pochi, anche in Italia, riescono a vedere tutta una gara come la 500 miglia, che per certi versi per il nostro tipo di interpretazione della Formula 1, delle ruote scoperte, può essere anche noiosa. Perché? Perché c'è l'ovale da due miglia, ci sono delle situazioni dove per giri e giri non cambia nulla, però io vi dico, se fate il confronto, pound for pound, come si direbbe nel mondo del pugilato, è molto più spettacolare la 500 milioni da Napoli se rispetto al Gran Premio di Monte Carlo. Bellissimo il setting di Monte Carlo, la vita del Principato, le barche, tutto quello che si vede, il jet set, però al di là delle qualifiche dove si giocano tutto i piloti, poi come sappiamo, a meno che ci siano dei tracolli clamorosi, chi ha la pole alla fine arriva primo, chi ha la seconda posizione in griglia arriva secondo via dicendo. Raramente a Monte Carlo c'è stato qualche cambiamento durante la gara. Forse se piovesse, quando è piovuto, qualcosa è successo però. Poca roba rispetto a un altro Gran Premio di Formula 1, è un Gran Premio come la 500 mila di Indianapolis dove c'è sempre un equilibrio pazzesco. Succede sempre tutto il contrario di tutto. Perché? Perché ci sono fattori imprevedibili come ad esempio il riscaldamento dei motori che in Formula 1 non esiste quasi più. Invece in Formula Indy c'è come? Ovviamente poi le macchine disassate perché devono stare sempre girando verso sinistra, le macchine difficili da condurre, macchine che vanno a 360 all'ora una attaccata all'altra per decine di minuti, cosa che ovviamente non succede nei Gran Premi di Formula 1. Quest'anno tra l'altro c'è una novità abbastanza italiana se vogliamo. Io credo che pochi di voi abbiano sentito parlare di Santino Ferrucci. Santino Ferrucci è un pilota 25enne, un pilota italiano che in un modo o nell'altro in questa edizione della 500 mila si è già fatto vedere e sentire. Nelle qualifiche dello scorso weekend infatti ha preso la quarta posizione. Lui che non è praticamente mai salito su un podi importante in Formula Indy ha preso dei podi in Formula Minori, tra l'altro è stato anche il collaudatore in Formula 1 della Haas, però è quasi passato inosservato sia in Formula 3 che in Formula 2 in Europa. Americano del Connecticut, di famiglia ovviamente italiana, un nome che è tutto un programma. Santino Ferrucci parte da quarto in un Gran Premio come la 500 mila di Indianapolis di quest'anno che vede in prima fila le tre auto, le tre macchine del team Roger Penske che è tornato prepotentemente a dominare il mondo delle ruote scoperte americane. Ovviamente stiamo parlando di telaio dall'Ara, come tutte, con motori, in questo caso Chevrolet. Staremo a vedere cosa succederà per Santino in quarta posizione e per tutti gli altri. Dall'altra parte dell'Oceano a Monte Carlo, più o meno sappiamo quello che potrà accadere, vedremo nelle qualifiche, ma Max Verstappen ovviamente basta vedere i buchi, come dicono gli inglesi, di quanto lo danno favorito. Max Verstappen non dico che a occhi chiusi potrebbe già portarsi a casa questo Gran Premio perché qualche cosa può sempre succedere però. Non darlo per favorito, anzi per stra favorito, sarebbe veramente nuotare controcorrente. Noi ci sentiamo, ci vediamo da queste parti lunedì. Grazie e arrivederci. Buon weekend a tutti.